La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e buon giovedì a tutti, ben trovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale. Ampio spazio dedicato anche questa mattina alla crisi in Ucraina, si continua a trattare e vediamo quali sono le proposte sul tavolo. Intanto arriva anche però l'avviso da parte della Russia per la Nato, vediamo infatti il titolo si concentra proprio su questo tema. La Russia avvisa la Nato, così titola il mattino, rischio incidenti con l'alleanza atlantica. Negoziati si riparte sul tavolo, il cessate il fuoco. Zelensky vogliono cancellarci, gli USA, Putin sta pensando di invadere Svezia e Finlandia. Andiamo avanti su questo argomento, come vediamo si parla ampiamente di questa crisi in Ucraina, dei venti di guerra, dei bombardamenti in Ucraina. Vediamo la strage degli innocenti nella fotonotizia, 2000 morti caduta a Kherson Odessa e Mariupol in trappola. La Laia indaga per crimini di guerra. Gli articoli correlati sul fondo, la bussola del conflitto, se Mosca alza il tiro in stile sovietico e poi l'unità dei fedeli, la chiesa ortodossa è lacerata ma pacifista. Le altre notizie, ci spostiamo a centropagina, le intercettazioni, soldati russi in lacrime ci fanno uccidere i civili. E poi troviamo l'intervista al generale Battisti, eroici, i partigiani ucraini, ma Kiev verrà espugnata. E poi il caso Dostoievski, ma la guerra non può colpire la cultura, o la pensi come noi, o non parli, non suoni, non esisti. Questo si impone la legge della guerra al mondo della cultura. Andiamo avanti, parla lo scrittore Lili, nell'Europa ha fatto affari d'oro con gli oligarchi. In basso invece troviamo la notizia dell'ennesimo caso di femminicidio che ha sconvolto l'intero salernitano. Quindi andiamo a Ponte Cagnano-Faiano, Anna e la vendetta del suo ex. Troppi segnali inascoltati, questo per il femminicidio di Ponte Cagnano. Ne parleremo ampiamente nel corso della nostra rassegna stampa perché sono tante le analisi che verranno effettuate sui quotidiani. Andiamo poi in alto gli altri temi. Lo sport, il calcio Napoli, vediamo sotto il titolo di testata, nei box, Milan, Spalletti schiera gli eroi dell'Olimpico, lo vodka per Demme, il big match in programma domenica sera. E poi l'intervista al doppio ex De Napoli, in signe decisivo, merita lo scudetto. Queste le parole di De Napoli. Chiudiamo la prima pagina del mattino nazionale, vediamo invece i principali titoli per il mattino di Salerno che apre con il femminicidio di Ponte Cagnano. Vediamo, Anna, quei segnali inascoltati. Era piantonato in ospedale, ha vagato per chilometri dopo aver ucciso e tentato il suicidio. Dolore, sciocche accuse per l'assassino della giovane parrucchiera. L'altra vittima, Alessandro, ferito al polmone, la folla è vendetta di Alfredo. E ancora nella fotonotizia, le testimonianze delle amiche le dicevano denuncialo, ma lei si è tirata indietro. Per le altre notizie andiamo in alto. Alta velocità, il no dei sindaci dell'area sud, zero benefici, la mobilità e lo scontro. I sindaci dei comuni, della Piana del Sele, del Tanagro, degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano hanno mostrato preoccupazione per i tracciati previsti da RFI per l'alta velocità e presentati martedì mattina in una conferenza stampa tenutasi in regione. Va precisato che tra i presenti, comunque all'incontro che si è svolto a Eboli, non vi erano sindaci del Vallo di Diano, quindi non c'era la rappresentanza del Vallo di Diano, nonostante qui venga citata. Andiamo avanti, andiamo di fondo. La storia, gli negano di vedere il figlio, papà di Nocera si dà a fuoco. Sono un papà che ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente gli abusi delle istituzioni. Questo scriveva tempo fa attraverso una pagina blog che aveva creato per l'occasione Mario Naclerio, il 33enne originario di Nocera inferiore, ma residente in Lombardia, è impegnato da mesi in una protesta contro i servizi sociali. E ancora la violenza, coltellate ad un 19enne, denunciati due minorenni. Centropagina ancora, salvate i nostri bambini con i corridoi umanitari, l'appello di Iarina, città assediate, aiutateli ad espatriare. Questo per la guerra e la solidarietà che si sta manifestando in tutto il territorio anche salernitano. Ieri sera ricordiamo la fiaccolata a Polla, inoltre un incontro a Atena per coordinare proprio gli aiuti. Andiamo avanti a Salerno, l'accolta di aiuti al comune, l'arcivescovo con Don Ivan in preghiera per l'Ucraina. Salernitana con l'Inter, sfida del cuore, crediamo, ci parla Salvatore Fresi, il doppio ex salernitana, nulla da perdere. Per le fotonotizia, lavoro e la svolta, gli operai ex Maccaferri nella nuova CST a Salerno, e poi l'ambiente, il blitz in civili dei rifiuti, multe a condomini e negozi. Chiudiamo la prima pagina del mattino di Salerno, vediamo invece quali sono i titoli per il quotidiano Le Cronache. In apertura si parla del caso di femminicidio a Ponte Cagnano, vediamo Codice Rosso, Anna non si era mai rivolta al centro antiviolenza. Gerarda Sica, delegata alle politiche sociali, accolte 22 richieste di aiuto, l'appello della dottoressa Martusciello, non siate sole, non siete sole, quindi denunciateli. E poi ancora parla Rita della caffetteria Napoliello, una caffetteria che si trova proprio nei pressi del salone, dove è avvenuto l'omicidio, dovevano esserci anche delle bimbe. che racconta quindi quella tragica mattina. E ancora, sempre per quanto riguarda la tragedia di Ponte Cagnano, Caccavale, l'amico di Anna, sta meglio e lascia la rianimazione. Cambiamo argomento di fondo, scusate, di spalla l'inchiesta. Erra, o meglio, restiamo in tema perché Erra sarebbe il giovane che ha ucciso la ragazza. Vediamo, Erra si affida all'avvocato d'ufficio, oggi l'autopsia è intanto sulla vittima. Le altre notizie, andiamo a centropagina, palestra, gli studenti del Tasso, ma la Falcone non lo sa, l'assessore alla scuola, stiamo lavorando, ma la Giunta ha già deliberato ai ragazzi la struttura del senatore e la pista d'atletica del Vestuti. Le altre notizie, di fondo l'intervista, il professor Mazzetti, le sanzioni peseranno sull'economia e poi andiamo a scafati manifesti funebri, le accuse di Cacchione. Per ancora l'iniziativa di solidarietà, proposta di legge di Picarone, sanità gratuita per i senza fissa di mora e poi ancora il respinto e il ricorso di esame ha deciso la Gallevi ai domiciliari. Le altre notizie, Salerno, Catello Lambiase, il Comune utilizzi i percettori di reddito di cittadinanza e poi la messa congiunta, preghiera e digiuno per cambiare il cuore degli uomini, l'appello di Monsignor Bellandi. Questi i principali titoli per le prime pagine, torniamo ora sul mattino nazionale, quindi andiamo ad approfondire i temi proprio legati innanzitutto alla guerra in Ucraina, vediamo per quanto riguarda le prove di dialogo, come abbiamo visto continuano le trattative, vediamo, c'è stato il fuoco, si tratta, Putin vuole Yanukovic, Macron, guerra indegna. Questa mattina, secondo il giro di colloqui, condanna dell'ONU, la Cina si astiene, il discorso del presidente francese, continuerò a parlare con il Cremlino. E poi in basso l'intervista ad Alessandro Minutorizzo, giusto armare gli ucraini, ma non bisogna andare oltre, rischio di conflitto mondiale. L'ex vicesegretario della Nato, i russi usano la metà della forza militare difficile che la Cina attacchi Taiwan. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre su questo argomento, parliamo ora invece delle restrizioni, gli effetti delle restrizioni. Dall'acciaio al legname scattano le sanzioni dell'Unione Europea, anche contro Minsk, bloccati i patrimoni di ufficiali e politici che hanno supportato l'invasione russa. Lo stop alle esportazioni di fertilizzanti spinge in alto i prezzi dei prodotti agricoli. La Casa Bianca prepara nuove strette nei confronti di Russia e Bielorussia. E poi nel mirino sono finiti anche tutti i prodotti ad alto contenuto di tecnologia. Continuiamo la manifestazione per l'Ucraina, grande bandiera della pace e fiaccole, l'iniziativa davanti alla Basilica di Assisi, una grande bandiera con i colori dell'iride illuminata dalle fiaccole è stata dispiegata davanti all'ingresso della Basilica Inferiore di Assisi per chiedere la pace in Ucraina. Andiamo avanti, di taglio basso, Swift, dieci giorni di tregua per chiudere i contratti, poi il blocco a sette banche russe. Resta escluso al momento Sberbank, il principale istituto di credito del paese. Restiamo ancora in tema, andiamo avanti, vediamo invece gli effetti sull'economia anche dei nostri paesi, vediamo le tensioni sui mercati, volano metano e petrolio, alta tensione sulle scorte, Powell, Fed, l'impatto della guerra sull'economia USA è altamente incerto, il gas è arrivato a sfiorare i 200 euro per megavattore con rincari del 50%. Il 70% dell'export di greggio da Mosca è di fatto congelato, l'OPEC non aumenta i flussi e il prezzo sale a 113 dollari al barile. Andiamo avanti, rischio stangate su famiglie e imprese per pasta e pane, rincari tra il 10% e il 30%. Questi sono gli effetti sull'economia. Allevatori in rivolta perché manca il mais per sfamare il bestiame, industrie siderurgiche in allerta per i prezzi di ghisa e acciaio. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulle pagine dei quotidiani salernitani, andiamo sul mattino di Salerno e parliamo dell'omicidio di Ponte Cagnano, della giovane donna uccisa dall'ex fidanzato. Vediamo Alessandro ferito al polmone per la folle vendetta di Alfredo. Il giovane è uscito ieri dalla rianimazione operato, ora i medici sperano di poterlo salvare. Caccavale aveva una storia con la parrucchiera, preghiere e messaggi di amore per lui su Facebook. Qualcuno lunedì sera aveva avvisato Erra, Anna sta con lui, non ci pensare più. La conversazione chat finisce sui social. E qui poi vediamo l'immagine della commozione del popolo di Ponte Cagnano davanti al luogo dove è stata uccisa Anna. Andiamo in basso, la denuncia della Zoccoli, troppi segnali inascoltati, bisognava intervenire prima il sindaco Lanzara, le intitoleremo il centro antiviolenza che realizzeremo nell'ex struttura del Camino Real. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino di Salerno, parliamo di ambiente, vediamo, andiamo a Salerno, ambiente e controlli, gli incivili dei rifiuti, multe a 5 condomini e 10 commercianti, cumuli di bustoni abbandonati in strada e senza alcun rispetto della differenziata. Nel Mirino anche un Lido e un Night, sanzioni fino a 500 euro ai responsabili. La Polizia Municipale in azione con l'aiuto di Salerno Pulita vanno sostituiti i sacchi neri con quelli trasparenti. E poi, per quanto riguarda invece l'assistenza sanitaria, ruggi, la protesta dei degenti, i pasti freddi e mal conservati perché arrivano dall'esterno. I consiglieri di oltre chiedono ai dirigenti provvedimenti urgenti, ieri altri 700 positivi, c'è anche una neonata tra i 30 di Salerno. Quindi questo invece per quanto riguarda i dati dell'emergenza Covid. Andiamo avanti, cambiamo argomento, parliamo ora di alta velocità. Si sono riuniti a Eboli, nell'Aula Consigliare del Comune di Eboli, sindaci e presidenti di comunità montane di diversi territori a sud di Salerno. Si parla anche della presenza di rappresentanti del Vallo di Diano, ma non risulta che vi fossero rappresentati del Vallo di Diano. C'era invece il presidente della comunità montana del Tanagro, Giovanni Caggiano, in protesta, in un certo senso, contro la tratta dell'alta velocità che attraverserà anche il Vallo di Diano. Secondo i sindaci che si sono riuniti nella serata di ieri, il progetto di RFI risulta un progetto che comporta molti rischi, ma nessun beneficio per l'area a sud di Salerno. Vediamo, treni veloci, arriva all'alto là dei sindaci, molti rischi, zero benefici. Gli amministratori dell'area vasta a sud contestano il progetto presentato da RFI, alta velocità, un tavolo permanente per difendere turismo e agroalimentare. Il summit ad Eboli, senza fermate, non si risolve il nodo dei collegamenti e si danneggia il territorio. E poi andiamo avanti, l'avvertenza, Maccaferri, la svolta più attesa, lavoratori ricollocati a Salerno. Incontro a Bellizzi con Volpe e De Luca Junior, l'azienda bresciana CST sta aprendo una sede nell'ex Ideal Standard e assumerà operai. Chiudiamo questa pagina ancora, restiamo sempre sul mattino di Salerno, vediamo le notizie dalla Piana del Sele, dal Cilento e dal Vallo di Diano. In apertura andiamo a Campagna. Vediamo lame, rissa e minacce, giovane accoltellato, denunciati due minori. L'agguato si consuma in pieno centro storico per futili motivi, 19 anni, ferito alla gamba, operato in prognosi riservata. Due minorenni denunciati a piede libero per aver accoltellato e minacciato un ragazzo a Campagna. L'episodio è accaduto lunedì sera a pochi passi dal municipio dove i minorenni hanno litigato con un giovane 19 anni di Campagna per futili motivi. Poi uno degli aggressori ha colpito con un coltello alla gamba il giovane che è stato soccorso e trasportato in ospedale. A Eboli ciclista contro un cavo, si taglia la gora sfiorata la tragedia. Ad Eboli un ciclista, una giovane donna residente ad Agropoli, definita contro il cavo d'acciaio che delimitava la zona dove si è verificato un incidente stradale ed erano in corso le operazioni di rimozione di un camion che si era ribaltato. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di ieri al ridosso di una rotatoria sulla strada provinciale 30 che collega Eboli alla litoranea. La donna è rimasta ferita alla gola ed ha rischiato di essere decapitata. A Battipaglia, polo oncologico in ospedale, raccolte 2.000 firme. Poi ancora le altre notizie, andiamo in basso. Sapri, disinnesco bomba, stop luce, acqua e gas, pronti i tamponi Covid per i 580 evacuati. Tutto pronto per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico statunitense rinvenuto in località Timpone. Domenica 6 marzo sarà il giorno X, ma le attività sono già iniziate con il trastennamento delle aree che entreranno in zona rossa durante l'intervento degli artificieri. Domani invece l'Aslo inizierà a sottoporre a tamponi anti-Covid le 580 persone interessate dall'evacuazione. Ad Agropoli invece botte e furto all'inquilino. Coppia finisce in carcere, rapine e lesioni personali in concorso ai danni di un inquilino. In cella un uomo ed una donna di Agropoli. Le altre notizie ci spostiamo di spalla. SOS Borghi, progetto città-albergo da 20 milioni a Sanza. La regione Campania ha individuato il comune di Sanza per il progetto pilota riservato ai Borghi a rischio abbandono da inviare al Ministero della Cultura. Il progetto sperimentale ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica ed è finanziabile fino a 20 milioni di euro. Prevista la realizzazione di una città-albergo, residenza e co-working in un comune scelto sulla base della collocazione geografica. E poi ancora uno spazio pensato anche per il Creative Social Co-Working per lo sviluppo di progetti imprenditoriali ospitando professionisti in un ambiente che non è solo spazio fisico in cui si colavora ma spazio dove si vive negli anni in relazione con altri professionisti si sviluppano nuovi progetti anche per il turismo ed altro ancora. Andiamo a Pollica, depuratore in pensione, nuovo collettore finanziato con il PNRR. Queste alcune delle notizie che troverete sul quotidiano il mattino ci spostiamo ora invece sulle cronache vediamo che si parla ampiamente del caso del femminicidio di Ponte Cagnano arrestato l'uomo che ha sparato ad Anna in attesa di convalida dell'arresto non ha nominato il legale questa mattina il sostituto procuratore Guglielmotti conferirà l'incarico al medico legale Daniello per l'autopsia sulla Salma a rappresentare Alfredo R e l'avvocato d'ufficio Ida Coraggio del foro di Salerno potrebbe essere presente anche qualche consulente delle parti offese e poi andiamo avanti intanto migliorano le condizioni di Alessandro Caccavale l'uomo è stato trasferito a chirurgia d'urgenza Erra sarà trasferito nel reparto dedicato ai detenuti forse oggi Alessandro Caccavale era il nuovo fidanzato diciamo anche se pare che la giovane non fosse interessata a stringere rapporti con altre persone proprio perché temeva le ripercussioni da parte del suo ex e poi ancora assassino, bastardo almeno un centinaio di insulti sui social le persone commentano così i post chiudiamo questa pagina andiamo avanti andiamo invece ora sulle pagine sempre di Le Cronache in cui si parla dell'emergenza in Ucraina la solidarietà della provincia salernitana è forte sono tante le azioni messe in campo per sostenere in questo momento il popolo ucraino tra queste ricordiamo anche la fiaccolata che si è svolta nella serata di ieri a Polla su iniziativa dell'amministrazione comunale altra azione in più rispetto ad altre già messe in campo come ad esempio la raccolta di beni di prima necessità ma soprattutto di farmaci e altri presidi sanitari e poi anche insomma tutta la provincia di Salerno si stanno moltiplicando le azioni di solidarietà vediamo parla Monsignor Bellandi la preghiera e il digiuno sono le armi più potenti per cambiare il cuore degli uomini Monsignor Bellandi e Padre Ivan insieme in cattedrale per sostenere e pregare per il popolo ucraino e poi vediamo tante le donazioni il cuore grande dei salernitani servono medicinali il cuore grande dei salernitani da alcuni giorni stanno arrivando nella chiesa di Sant'Andrea in via dei canali donazioni di abiti, coperte, cibo e medicinali da parte di aziende e privati cittadini da inviare in Ucraina a centro pagina raccolta di beni promossa dal comune di Salerno in prefettura riunione organizzativa per l'accoglienza dei profughi parteciperanno i tre referenti delle caritas provinciali e poi invece a pagani sono partite le iniziative a supporto della popolazione ucraina in patria e in arrivo organizzare l'accoglienza per i profughi di guerra quindi insomma tutta la provincia salernitana si sta mobilitando a sostegno del popolo ucraino andiamo avanti ne abbiamo visto anche sulle pagine del mattino di Salerno da Eboli è partita la contromossa contro la realizzazione della nuova tratta a alta velocità Salerno-Reggio Calabria scusate Roma-Reggio Calabria in particolare per quanto riguarda il tratto Battipaglia-Praia ieri sera i sindaci dell'area sud una parte dei sindaci dell'area sud si sono riuniti in contrasto al progetto presentato da RFI un progetto che è stato presentato ufficialmente in Regione Campania lo scorso martedì per i sindaci potrebbero esserci dei pericoli e dei danni causati al territorio e che potrebbe quindi danneggiare la vocazione ambientale e agricola del territorio vediamo il titolo conferenza sindaci preoccupati per il tracciato dell'alta velocità per la prima volta con i presidenti delle comunità montane sono riuniti per trovare una sintesi ed elaborare osservazioni e proposte vediamo alcuni dei sindaci presenti Mario Conte il sindaco di Eboli di Battipaglia il sindaco di Campagna di Sicignano degli Alburni di Vallo della Lucane il sindaco di Altavilla Silentina il sindaco di Serre poi c'era l'assessore di Capaccio Pestum e i presidenti delle comunità montane del Tanagro e Alto Mediosele Giovanni Caggiano e della comunità montana degli Alburni Gaspar e Salamone oltre al presidente del consiglio comunale di Eboli Cosimo Brenga si parla nei vari si fa riferimento anche alla presenza di sindaci e rappresentanti istituzionali del Vallo di Diano come abbiamo visto non erano presenti e vediamo ancora entro 90 giorni e vi sarà una conferenza decisoria con RFI i sindaci hanno deciso poi alla fine di creare e di istituire un tavolo permanente per verificare la progettazione andiamo avanti andiamo in basso Bellizzi Vertenza Meccaferri accordo per la ricollocazione dei lavoratori Cammarano si apre uno spiraglio di una possibile nuova fase a Bellizzi soddisfatti per le notizie positive il commento dell'onorevole De Luca chiudiamo anche questa pagina andiamo ora sulle pagine sempre della provincia di Salerno andiamo a Sapri vediamo riunione organizzativa per il piano di bonifica dell'ordigno residuato bellico questa mattina alle ore 11 in prefettura di Salerno l'incontro tra il sindaco di Sapri Gentile russo e il comandante del ventunesimo reggimento Genio Guastatori sempre a Sapri proroga delle domande del servizio civile la scadenza è stata rinviata al 9 marzo e ancora l'iniziativa per carnevale premiata la mascherina più bella ha vinto l'undicenne Alessandra Campagna e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa io vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti